Frontale sulla strada provinciale 251 a Zoldo. Grave uno dei tre feriti. L'incidente attorno alle 18 di ieri tra Forno e Dont. Sul posto tre ambulanze e l'elicottero del Suem. Traffico a lungo in tilt. Questo uno dei titoli che propone oggi il Corriere delle Alpi. L'incidente frontale è avvenuto intorno alle 18 di ieri e la strada è rimasta bloccata fino verso le ore 20. Dei tre feriti, uno, un sessantenne dell'Alpago, è stato recuperato in condizioni più grave ed è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Mentre altri due cittadini dell'Alpago, un padre e una figlia, in condizioni per fortuna meno gravi, sono stati trasportati all'ospedale di Belluno. Il Corriere delle Alpi propone anche quattro immagini che danno conto della realtà di questo incidente e delle conseguenze anche sul traffico con l'immagine della colonna che si è creata a causa del blocco della strada. Ma andiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi di oggi che in particolare dà rilievo alla notizia della firma del contratto tra la Simico, la società che ha la responsabilità della realizzazione delle opere olimpiche, e la ditta l'impresa Pizzarotti per la costruzione della pista da Bob a Cortina d'Ampezzo. A questo proposito il Corriere delle Alpi ha realizzato una intervista con il ministro dello sport Andrea Abodi che rassicura il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ci ascolterà. Cortina avrà la sua pista da Bob sia le gare, il nostro dossier è solido e rispetteremo i tempi. Questo è la rassicurazione del ministro dello sport perché c'è chi sottolinea che è necessaria appunto anche la approvazione del Comitato Olimpico Internazionale che nelle settimane e nei mesi scorsi aveva più volte sottolineato che non vedeva la necessità della costruzione di una nuova pista da Bob ritenendo sufficienti quelle già esistenti. Ma la volontà italiana è stata quella di proseguire nell'intento di ospitare la gara olimpica in Italia e di qui la decisione di costruire la pista a Cortina. Ora la sfida è vedere se si riuscirà a realizzare quanto deciso nei tempi previsti. Andiamo all'interno del giornale, le cui prime pagine vengono dedicate alla cerimonia che si è tenuta ieri alla Università di Padova per la consegna della laurea in memoria di Giulia Cecchettin che è stata proclamata ingegnera tra tante lacrime e applausi al Bo. Conferito in Aula Magna il titolo di studio alla memoria della giovane Giulia alla presenza anche della ministra Bernini. E di questo avvenimento vengono riportati tanti commenti con i discorsi che per l'occasione sono stati pronunciati. La rettrice dell'Università, riferendoci a Giulia, è stata un primo violino. Oggi noi tutti proviamo a regalarle un sorriso. E l'intervento della famiglia, un atto d'amore per te, aperto uno squarcio nelle nostre coscienze. Il papagino non riesco ad essere felice. Onoriamo la tua assenza. La sorella Elena, sono fiera di te. Complimenti, ingegnere. E poi andiamo nelle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Pagine che si aprono con una segnalazione di carattere sanitario. Malattie al pancreas, manca il medicinale, allarme dei farmacisti, situazione critica. Il presidente dell'ordine, Alessandro Somacal, è preoccupato. Ci sono pazienti che dovranno cambiare terapia. E poi, per quanto riguarda l'influenza, bassa adesione al vaccino. L'Ulss1 Dolomiti pensa alla chiamata a casa. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti, vuole aumentare le somministrazioni e per questo sta pensando di mandare una lettera agli interessati con un appuntamento già fissato per aumentare le probabilità di presenza alla vaccinazione. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Un'orchestra stabile nel teatro, avviati contatti con Rovereto da parte di Belluno. La collaborazione potrebbe ampliare e arricchire l'offerta culturale del teatro Buzzati. L'attuale residenza confermata due anni, poi un bando per ospitare altri soggetti. E sempre da Belluno, in primavera, lavori nei cimiteri Nuovi Ossari, a Prade e a Cusighe. Mido, la mostra internazionale dell'occhiale, in programma nei prossimi giorni a Milano. 50 le aziende bellunesi presenti, tra orgoglio e innovazione. Imprese grandi, medie, piccole e tante, start-up del basso filtrino Alcadore. Davia, di Confindustria, al loro fianco in questa fase di transizione green e digitale. Più segnali e pulizia locale agli incroci. Via del Vesco sarà chiusa con transenne. Si tratta di un articolo dedicato alla chiusura del ponte alla Veneggia, a nord di Belluno. Risolte alcune delle criticità all'incrocio con Via del Candel, ci sarà un pannello luminoso per evitare che i veicoli saltino lo stop sulla statale. Si tratta degli aggiustamenti necessari per consentire al traffico di affrontare nel modo più agevole possibile questa interruzione della strada che da Ponte nelle Alpi, da Belluno porta a Ponte nelle Alpi, a causa della necessità di sistemare un ponte. E sempre da Belluno, trasporto a chiamata. Lunedì l'incontro con i comuni vicini. La strategia del capoluogo è di estendere il bacino di utenza. L'assessore Gamba, per i piccoli mezzi, bastano autisti con patente B. E ancora da Belluno, un progetto al Nido, all'asilo Nido, per garantire il servizio fino alla fine di luglio. Si tratta dell'asilo comunale Piccolo Girasole. Ed eccoci a Feltre, a battere e ricostruire la palestra del Vittorino, inizio dei lavori in marzo. Riunione operativa per definire il cronoprogramma. L'assessore Dalla Palma è uno dei principali interventi previsti per quest'anno. L'impegno finanziario supera il milione e duecentomila euro. La demolizione durante le vacanze pasquali. Scalette, siamo sempre a Feltre, Maria Cristina Scalette ha lasciato l'incarico. Necessario trovare un dirigente per il comune di Feltre. La professionista che seguiva l'urbanistica si è dimessa. Lavorerà in un altro ente. Dopo l'assunzione di Piovesana ai lavori pubblici, il comune va di nuovo in cerca. Sottolinea la sindaca Fusaro. Resta valida comunque l'impostazione di avere due figure in un settore così complesso come appunto quello della urbanistica. A Fonzaso, canna fumare a fuoco in una casa al centro, danneggiata la cucina. Ed eccoci nel comune di Setteville e in particolare a Quero. Gestione dell'asilo a una cooperativa. Aperte le iscrizioni per il 2024-2025. La parrocchia concede l'edificio incomodato ad uso gratuito. Domani e mercoledì scuola aperta per raccogliere le adesioni. Carnevale con carri e maschere in centro. Domenica 10 febbraio a Pedavena. Soste lunghe al semaforo di Cannes di Cesio Maggiore e c'è chi passa con il rosso. Questa una delle segnalazioni nelle pagine dedicate al Feltrino, oggi sul Corriere delle Alpi. E dal comune di Borgo Valbelluna. Accordo tra Kral e comune. A Farra arriva il parcheggio. L'associazione ha messo a disposizione il terreno per un'area di sosta e parco giochi. L'ente locale provvederà ai lavori per allestire e asfaltare il piazzale per le auto. E da Ponte nelle Alpi. Concluso il cantiere a Sant'Andrea in Monte, Scalini e Corrimano per salire in sicurezza. Utilizzato anche l'elicottero per ripristinare il sentiero. I lavori della Teddy Forest seguiti con attenzione dai paesani. Lavori che vengono anche documentati in questo caso con tre immagini. E sempre da Ponte nelle Alpi. Lega all'attacco dell'amministrazione comunale sui fondi PNRR. Sottolineando che il comune di Ponte ha ricevuto meno soldi rispetto a altri comuni bellunesi di simili dimensioni. E chiedendone ragione appunto all'amministrazione comunale. Cortina. Siamo nella parte riservata dal Corriere delle Alpi appunto a Cortina e al Cadore. Si comincia con un articolo dedicato alle regole relativamente a un incontro svoltosi a Belluno nella sede della provincia, dell'amministrazione provinciale. Regole statuti da modificare. Ma da noi non c'è sessismo. Sottolineano appunto le regole. La realtà della montagna. Le realtà della montagna convocate in provincia dalla consigliera di parità Manuela. Da Cortà di Pozzale. In questo caso ha sottolineato. C'è la volontà comune di rivisitare i vari laudi. La consigliera della parità Monigo. Noi al lavoro per l'inclusività. Gli istituti rivoglieri possono darci una mano. Cortina. Il Paglio dei Sestieri. E il Tre Croci. Il Martedì. Grasso. È la novità dell'edizione 2024 del Carnevale Ampezzano. Che si apre l'otto e che culminerà il 13 Martedì Grasso con la tradizionale sfilata di maschere in centro. Busa del Cristo a Perarolo. Via ai lavori per la vasca di laminazione a difesa di Fosso di Costa. Cavallera chiusa ieri alcune ore per il posizionamento di un ingombrante macchinario. La misura sarà necessaria altre quattro volte in questo mese di febbraio. E per quanto riguarda lo sport, sorpassi salti e sportellate spettacolo in pista ad Alleghe con lo ski cross che ha vissuto una tappa di Coppa del Mondo. Ma dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. Che in prima pagina, come titolo a sei colonne, presenta il caso Zoldo. Il Brasile non ci sta. Richieste di cittadinanza. Lettera del console generale. Chiediamo rispetto per l'amicizia storica tra i nostri paesi. Ma il sindaco di Zoldo, De Pellegrin, replica. Viene strumentalizzata la storia dell'emigrazione italiana. Non mistifichiamo la realtà. Il comune di Zoldo, come altri comuni, per la verità si è lamentato per le tante pratiche di cittadinanza che deve affrontare, viste le richieste che giungono dal Brasile. Per questo ha anche esposto una bandiera brasiliana nel municipio. Di qui la presa di posizione del console brasiliano, anche dopo tanti commenti che ci sono stati sui social che chiede più rispetto e la replica del sindaco che fa presente che il problema esiste e va affrontato. Ma andiamo all'interno del giornale. La prima pagina di approfondimento viene dedicata al tema della parità di genere per quanto riguarda le regole. Regole più inclusive. Siamo al lavoro. La consigliera provinciale delegata Flavia Monigo ha incontrato gli istituti regolieri per accelerare l'apertura alle donne come regolieri. Molti dei presidenti al tavolo hanno già cambiato lo statuto della loro regola, ma c'era anche chi da anni tenta di farlo, come in ampezzo. Speciale, un altro oro, René de Silvestro, tre gare e tre podi. Viene data grande evidenza ai risultati del poliziotto Cadorino che nella Coppa del Mondo di sci paralimpico a Cortina ha ottenuto risultati di grande rilievo, vincendo la prova di ieri, De Silvestro incassa un bottino di tutto rispetto al termine della Coppa del Mondo paralimpica. Due primi posti, un secondo. ACC tradita. Non dimentichiamo. Lo sfogo del sindaco di Borgoval Belluna, Stefano Cesa, dopo la sentenza beffa che annulla la decisione che condannò lo stabilimento di Mel. E il primo cittadino di Borgoval Belluna va oltre e si chiede perché si è voluto a tutti i costi far morire la nostra fabbrica? Castion. Omaggio a Marco Polo per l'edizione 62 del Carnevale. Il via ai festeggiamenti. Sabato 10 febbraio. Il clou domenica 11 con i carri locali. Siamo sempre sul gazzettino di Belluno. In città a 30 all'ora. Così si inquina meno. Questa è la sottolineatura della Federazione Ambiente e Biciclette dati alla mano in risposta a un post dell'assessore regionale Bottacin che sottolineava invece che a 30 all'ora non c'è tutta questa riduzione dell'inquinamento che si vuole far credere. Andando più piano in auto le emissioni nell'aria calano, sottolinea la Federazione Ambiente e Bicicletta. Essere dannose nei centri urbani è lo stop and go, le continue accelerate e frenate, caratteristiche di un'andatura più veloce. Ed eccoci nella sezione dedicata a Feltre e al Feltrino. Elementari. Restauro della palestra a Vittorino. A marzo prenderanno il via a Feltre i lavori per l'adeguamento strutturale del palazzetto della primaria Vittorino da Feltre. L'assessore Andrea Bona. Il costo dell'intervento ammonta a 1,2 milioni 850 mila dei quali ottenuto grazie ai fondi PNRR. Uffici postali. Gli interventi per rinnovare il servizio. In provincia sono 104 a servizio di 60 comuni. Quelli che sono stati rinnovati totalmente sono 11. A breve altri cambi. Ed eccoci a sedico. Elezioni. Il sindaco Deon pronto a calare il Tris. La possibilità di presentarsi per il terzo mandato consente al sindaco uscente di candidarsi alle prossime consultazioni. In questo caso sarebbero disposti a fare un passo indietro sia il consigliere Casoni sia la vice sindica Gioia Sacchette. Gran fondo Dobbiacco-Cortina. La gara è dimezzata a causa della carenza di neve. Oggi parte la gara di stile classico. Domani quella di sciata libera. E per lo sport. Lo ski cross tornerà nel 2025. Ieri l'esordio della Coppa del Mondo sul Civetta. Vincono la canadese Sherratt e lo svedese Mobairk. Male gli azzurri. Oggi alle 10.30, seconda e ultima giornata di gare. Euforia nel comitato organizzatore. Probabile il ritorno tra un anno. E infine, da oggi Sedico celebra l'arte delle maschere. Si rinnova ancora una volta il classico appuntamento con il carnevale più importante della provincia. Alle ore 18 nel polo culturale, il primo evento di un ricco calendario. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci. Grazie. Grazie.